Sarà una ripartenza a scaglioni quella prevista dal governo Draghi. Dal 26 aprile il Lazio, assieme ad altre 11 regioni, torna in zona gialla. Questo significa via libera agli spostamenti anche senza Green Pass. Agli sport all'aperto, compresi quelli di contatto e a centri sportivi, cinema, teatri e musei. Capitola a parte la ristorazione, uno dei settori più martoriati dalla pandemia. Pranzi e cene esclusivamente all'aperto, nella speranza che non piova o tiri troppo vento. E soltanto entro le 22, dato che il coprifuoco al momento non è stato posticipato. Dal 15 maggio riaprono i centri commerciali nei weekend, i mercati rionali, gli stabilimenti balneari e le piscine all'aperto. Anche se non è chiaro come andare al mare o nuotare possa conciliarsi con l'obbligo di indossare le mascherine. Dal 1 giugno si ha palestre, ristorante al chiuso e in vista degli europei di calcio agli spettatori negli stadi. Il 15 giugno riaprono le fiere, mentre il 1 luglio riprendono congressi e convegni. E riaprono parchi tematici e stabilimenti termali. Palazzo Chigi però è stato chiaro, il calendario potrà subire delle modifiche e tutto dipenderà dal numero dei contagi.